Rosanna Fantuzzi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Lidio. Benvenuta davvero qui nel posto delle parole per parlare di musica, ma non solo perché... Non solo. Ed è bello non solo musica perché quello che stiamo per raccontare è una mostra, è un viaggio, sono parole e arte e sono tante cose messe insieme, una pluralità che poi raggiunge proprio una singolarità tutta da raccontare. Veniamo al dunque, Rosanna Fantuzzi insieme con noi per anticiparci una mostra che sarà aperta dal venerdì 12 aprile a domenica 12 maggio a Torino, lo spazio Musa in via della Consolata e la mostra ha come titolo Augusto D'Oglio, uno sguardo libero, il viaggio, la musica, l'arte, le parole. Rosanna Fantuzzi grazie anzitutto per essere insieme con noi e adesso andiamo, andiamo a raccontare che non è mai raccontato abbastanza giustamente, è bello che così sia lo sguardo libero di Augusto D'Oglio che è stato tuo compagno per tanti anni, per 23 anni e raccontarlo, raccontarlo ogni volta perché poi nel racconto ogni volta certo si trovano cose nuove ma si raccontano sovente delle cose che sono quasi sempre le stesse, ma questo è anche importante perché ribadisce una memoria, che ne dici? Certo, certo, poi soprattutto nella figura di Augusto che ha amato tantissimo il suo pubblico, il pubblico me lo dimostra ancora perché noi subito dopo la sua morte abbiamo fondato un'associazione che si chiama Augusto per la vita che ogni mostra che facciamo, ogni iniziativa è finalizzata a raccogliere fondi per la ricerca oncologica e quindi anche questa mostra avrà questo fine. Tutto il ricavato degli ingressi che sono offerta libera andranno a cambiolo. Io ogni luogo, ad esempio ho fatto la mostra a Ferrara, abbiamo contribuito ad acquistare un cardioicografo per l'oncologia infantile di quel paese, però questo per dirti che ancora a distanza di quasi 32 anni Augusto è ricordato con un affetto e lui il motore di tutto questo perché Augusto era qualcosa di… faccio fatica a trovare un termine che riassuma un po' tutte le sue virtù, tra virgolette, perché Augusto amava dipingere, amava viaggiare, amava cantare, scrivere, quindi è stata una persona che si è dato molto agli altri. Io sono un po' la testimone di questo percorso che ha fatto, bellissimo, bellissimo ma anche per me a volte faticoso perché tante volte era imprendibile, Augusto dormiva pochissimo, era assetato di questa vita che gli è sfuggita troppo presto, a 45 anni. È una vita che è sfuggita troppo presto, infatti a 45 anni e si vive nel ricordo e nell'ascoltare la sua voce, nel vedere, nel vedere per esempio questa mostra perché perché è importante, perché è una mostra che non racconta solamente la vita, anche la vita privata, la vita pubblica di Augusto dell'Oglio, ma è anche un leggere l'Italia di quel tempo, leggere il senso artistico sia della musica, delle canzoni, ma anche per esempio attraverso i disegni, i tacquini, i suoi oggetti che non sono solamente oggetti personali che è già molto, ma è un corollario di cose che raccontano una storia. Sì, sì, assolutamente, perché io a distanza di 30 anni quando il comune di Reggio Emilia mi ha chiesto di fare una mostra un po' antologica per rappresentarlo, io ho detto adesso è il momento di aprire quei cassetti che non ho mai aperto a nessuno e quindi ho fatto uscire dei diari, quelli che erano i diari tacquini, dei nostri viaggi, dei suoi appunti, così, quindi questa mostra porterà all'interno anche scritti proprio manuali, anche delle testimonianze bellissime che io non avevo, proprio cose inedite e le persone hanno dimostrato di averlo gradito tantissimo perché sono assetati di conoscere meglio quell'Augusto multiforme perché Augusto aveva veramente una capacità di comunicare che io non ho mai ritrovato in nessun altro, sono di parte, me ne accorgo, però Augusto era veramente qualcosa e il Piemonte ce lo ha sempre dimostrato. Il Piemonte ce l'aveva nel cuore e in particolar modo Castagnone delle Lanze, è un punto di riferimento importante. Certo, ci sarà probabilmente anche il sindaco di Castagnone delle Lanze all'inaugurazione, l'11. Il diario è la mostra, la mostra è il proprio il diario perché io non conoscevo l'esistenza di questi diari e credo che per molta parte del pubblico scoprire questi diari sia veramente molto particolare. Allora, Rosanna Fantuzzi, andiamo veramente dentro il diario e questi diari, raccontavi poco fa di aprire i cassetti a cui non avevi mai pensato e quindi trovare i diari. No, perché ero molto gelosa di questi diari. Gelosa ma anche felice di rendere questi diari pubblici e quindi condividere questi pensieri e queste ansie, queste gioie. Allora, raccontami di una pagina di un diario. Allora, nel diario Augusto amava come fanno i ragazzini spesso, lui era l'eterno ragazzino, lui attaccava sul diario i biglietti dell'autobus, della metropolitana, dei concerti. Io ho dei biglietti dei concerti di Frank Zappa, per dire, attaccati su questi diari dove lui intervallava questi oggetti, questi cimeli che noi portavamo a casa dai nostri viaggi con dei disegni, ma i disegni più scatenati, più Augusto amava e poi si divertiva lui stesso mentre lo faceva. Quando ad esempio a pranzo scrivevamo le cartoline, perché un tempo si scrivevano centinaia di cartoline agli amici, lui le illustrava tutte e così anche in questi diari lui amava intervallare gli oggetti cartacei con delle immagini bellissime, bellissime. Io però diventava faticoso strappare una pagina e poterla esporre. È vero che siamo riusciti a trovare il sistema facendo anche delle copie, sono stati bravissimi gli allestitori perché abbiamo reso visibile quello che probabilmente in un diario, senza doverlo rovinare, riesci a mostrare. E lì ti arriva, come posso dire, anche l'ironia, la forza di quella natura che Augusto aveva, perché veramente io con Augusto ho non solo vissuto a pieno delle stagioni bellissime, ma ho vissuto l'ironia, la gioia, il ridere con il tuo compagno, con i tuoi, è la cosa più bella del mondo. Poter sorridere, poter ridere delle cose, però nello stesso tempo anche di grande serietà, perché Augusto era un pacifista convinto, ha scritto canzoni, ha testimoniato migliaia di volte la sua forza contro ogni forma di violenza, contro la guerra, contro gli abusi. Quindi questo alla gente arrivava, perché la gente arrivava e capiva che Augusto amava sorridere con loro, scherzava sul palco perché quella serata che aveva voglia di farlo durava un quarto d'ora, una battuta, un'ironia, ma nello stesso tempo poi arrivava la parte seria, dove si ragionava e si pensava che noi siamo responsabili un po' di tutto. Infatti lui amava molto prendere una frase di Margherita Iossenar dove diceva che noi siamo responsabili della bellezza o della bruttezza del mondo. Lui leggeva tantissimo. Augusto aveva un libro nella valigia, un libro in bagno e un libro sul comodino, perché leggevo quasi tre libri in contemporanea. Quindi Augusto era vulcanico. Io mi sono sentita veramente mutilata senza di lui. Però devo dire che la forza di portare in giro i suoi dipinti, il suo pensiero. Io sono andata un paio di volte in Sicilia all'istituto delle mostre bellissime in Sicilia e per me è un motivo di... dà un senso alla mia vita, perché credo che Augusto meriti tutto questo, ma molto molto di più, perché conoscerlo ti arricchisce. Infatti le persone che vengono alla mostra, anche quelle che sono venute a Reggio Emilia, mi hanno ringraziato perché mi hanno detto grazie per avere condiviso con noi la tua vita, la vita di Augusto, quello che ci ha anche così ironicamente insegnato. Eh sì, ironicamente insegnato era una dote straordinaria e questo e molto altro ancora lo possiamo scoprire nella mostra a Torino dedicata per l'appunto ad Augusto D'Aoglio. Bello il titolo, Augusto D'Aoglio, uno sguardo libero, il viaggio, la musica, l'arte, le parole. Qual è l'ultima volta che hai ascoltato una canzone con la voce di Augusto? Purtroppo, dico purtroppo perché mi emoziona ancora e mi dicono ma tu dopo 30-32 anni piangi ancora sentendo la voce di Augusto? Io sì, perché Augusto andava oltre al suono, era qualcosa che ti entrava dentro e questo è arrivato non solo a me. Io lo so, sono particolarmente coinvolta, ma io purtroppo mi capita spesso di sentirlo anche in televisione, in radio o così, oppure se vado a un concerto di una cover band dei Nomadi, di sentire. Io stesso ho creato uno spettacolo che faremo il 13 al Musa con un musicista bravissimo che lo ha conosciuto. Leggiamo dei suoi scritti e nello stesso tempo Vittorio Bonetti, che è il musicista che ci accompagna, che mi accompagna, suona le canzoni di Augusto e sono tutte canzoni scritte da Augusto. Le guardavamo in questi giorni e dicevamo guarda quanto Augusto era avanti, era avanti nel senso che ha visto quello che stava accadendo 30-35 anni fa ed era veramente un'anticipazione che non avrei mai pensato, reggendolo adesso mi rendo conto di quanto lui fosse avanti con il pensiero, con le sue sensazioni. Grazie davvero Rosanna Fantuzzi del tempo che ci hai dedicato per raccontare Augusto D'Oglio con questa mostra, lo spazio Musa a Torino e a questo punto da venerdì 12 fino al 12 aprile fino al 12 maggio la possibilità per il pubblico di vedere da vicino tutta questa mostra. Grazie davvero e buon lavoro. Grazie a voi dell'ospitalità e dell'affetto. Grazie.